Era una naturale evoluzione quella di essere presenti qui a Milano alla triennale nell'ambito della settimana del Salone del Mobile e oggi abbiamo questa scultura perché di questo si tratta, è una scultura che rappresenta i futuri interni dell'XC90 e delle future macchine Volvo e quindi sì, un connubio importante perché il design d'ora in avanti e ma anche nelle vetture già presenti in gamma oggi sarà un asset molto importante per Volvo. È una scultura, è una vera e propria scultura, ha fatto il giro del mondo, oggi siamo molto contenti di averla qui, rappresenta in forma a uno a uno quello che saranno gli interni dell'XC90 e l'altro ne abbiamo già svelato a Ginevra nel concept estate e quindi oggi averlo qui è motivo ancora di orgoglio anche questo. Noi abbiamo un sogno, l'abbiamo dichiarato più volte, lo chiamiamo Visione 2020, sono nel 2020, abbiamo dichiarato più volte che nel 2020 nessuna Volvo dovrà scontrarsi, quindi dovrà creare o essere coinvolta in incidenti grazie alla nostra tecnologia sulla sicurezza attiva e passiva, quindi sull'elettronica e sulla connettività interna ed esterna alle vetture. Allora nel corso degli anni ovviamente il design ha seguito molto le mode, siamo partiti negli anni recenti da vetture estremamente filanti, oggi vediamo vetture particolarmente scolpite che hanno delle linee importanti ma che scolpiscono la carrozzeria, io credo che il futuro sarà comunque di questa tipologia di vetture, quindi il bello avrà sicuramente il sopravvento sulla necessità in cui era costretto il design, cioè quello di riuscire a creare delle vetture che impattassero meno sull'aria, quindi avremo più possibilità di produrre delle vetture belle, questo grazie alla tecnologia che ci permette oggi addirittura di far viaggiare i motori completamente ad elettrico. Grazie a tutti.